Stazione centrale, la piazza, ecco le condizioni della gente, queste sono tutte le stazioni centrali delle grandi città, le più grandi, da Napoli a Roma, a Milano, Torino, questo è quando troviamo in questo diciamo così ampio spazio di piazza tra due grandi aree, qui c'è la galleria commerciale, ecco il biglietto da visita per le città. Lì c'è il Garibaldi d'Italia che è in tutte le piazze d'Italia e qui specialmente nella capitale del Mezzogiorno, quando fu posto il cantiere nel 1904 tutti quelli che hanno il bidet che aveva la regina quando c'erano i borboni della capitale del Mezzogiorno, dopo post unità d'Italia, nessuno si ribellò, come ora, ecco qua la desertificazione con una piazza, una piazza alloggio, una piazza alloggio per diseredati, questa è una delle le città, la terza città d'Italia che il problema è esteso a tutti quanti, ecco la realtà dei fatti, le fermate di Pullman, i famosi distanziamenti, ecco qua, questa è tutta, è una pillola mattutina per la informazione, ecco qui.